Il giorno per cosa stavo in votazione, il protocollo di destrazione per affrontare l'evento occupazionale complementare la rinnovità. Io leggo il protocollo, il progetto è la votazione di questa desidera che è il protocollo di destrazione per affrontare l'evento occupazionale complementare la rinnovità comunitaria, su proposta destina da una nuova protocollo 21-14-1-29-1911, in un momento di nota per il tavolo di Casonia. E l'unione di sindacali di base ha chiesto all'amministrazione comunale di Casonia un impegno concreto, teso a portare a termine quei progetti essenziali per il gran sviluppo della città, ma la più nuova città della residenza di Casonia di Casonia, 100 euro sostenibili a portare a Casonia, aree di spesso e progetti di medie lungotecchi e importanti per così una nuova adozione di Casonia. Distante anche il spremoto dell'adozione del protocollo di Casonia, tanto come obiettivo quello di Spermineare, un sistema di intervento per favorire il sistema di sostenibilità sostenibilità produttivo delle persone in difficoltà a causa della crisi conluturale di Casonia, problemi anche incollucenti e rialati oltre che dalla crisi conluturale anche dal distorso fenomeno di globalizzazione. Hanno avuto poche conseguenze sulla realtà economia e sociale di Casonia. E' doveroso per la civica iniziazione, mentre ha avuto un sistema articolato di proposte che possa permettere a chi ha subito le conseguenze di due della crisi di rinunque in gioco e a chi è disoccupato a partecipare a percorsi per l'occupazione. All'unico il punto di risposta di scena di protocollo di Casonia, che non sarebbe poter sentire come un momento in volta per i lavori di Casonia, tanto permesso si propone di attuare per le motivazioni che crescendo e quindi abbia la precedenza di protocollo di Casonia, tanto per costituire parte integrale e sostanziale. Protocollo, quindi, è stato abbraccio ed è stato ristribuito ai concili che vogliamo siedere d'accordo per l'euro. Grazie. 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 che arriva al tavolo della presidenza in quel momento e che ci suggerisce il deriva e la voce capitonale di affalto e gare che l'ente con il te da dotare, la decintura che laurea e gli utili nel grado che pensano sul nostro territorio di diverse tipologie di lavoro, si intende ad assumere il proprio gran proponso lavoro del territorio di Pesone. Allora, penso che questo è un intervento a chi è necessario, cioè, per la verità è che funziona un attimo capissimo con il deriva di Devo in questo territorio, e comunque c'è necessità così infallile. Allora, devo aprire il capo a tutti i giorni, mi chiede di intervenire, dato che in caso di un emendamento suggerà agli proponenti che bisognerà valutare ovviamente anche nella regolarità formale del territorio di Pesone. Ecco, è un emendamento sufficientemente e giustamente, insomma, si vede a vedere, però lo consiglio di Pesone. Grazie. Grazie.